Sono 38 i casi accertati di coronavirus in Campania, il dato emerso dall'ultimo bollettino della Task Force istituita dalla Regione Campania, diramato nella serata di ieri dalla Protezione Civile Regionale. Nel pomeriggio di ieri sono stati esaminati in laboratorio presso il centro di riferimento dell'ospedale Cotugno 66 tamponi, tre di questi sono risultati positivi, si legge nel comunicato. Come per tutti gli altri tamponi, i nuovi casi dovranno essere poi confermati dall'Istituto Superiore di Sanità. Nella giornata di ieri quindi complessivamente 90 tamponi, di cui 7 positivi. Tra questi anche l'insegnante che vive a San Valentino Torio. In merito al sospetto caso di coronavirus che vede coinvolto un dipendente comunale di Nocera Inferiore, è stata disposta la quarantena per la famiglia. Il primo cittadino, Maglio Torquato, ha inoltre ordinato la momentanea chiusura degli uffici di via di Broia. Si attende l'avvio delle operazioni di sanificazione. Il sindaco di Sarno, Giuseppe Canforo, ha confermato i risultati di alcuni tamponi su medici infermieri e familiari a contatto diretto con l'insegnante risultata positiva al coronavirus. I test effettuati hanno avuto esito negativo. Una paziente ricoverata al cotugno è stabile, in condizioni cliniche stazionarie. Questo ci rincuora, ha affermato il sindaco Canfora, che ha anche sentito telefonicamente la donna portando il pensiero solidale della città. I risultati negativi dei tamponi tranquillizzano gli animi di tutti, ha continuato il primo cittadino, nella consapevolezza di restare vigili, avere gran senso di responsabilità, seguire le norme dettate. Intanto, facendo seguito al decreto del governo, il comitato organizzativo del carnevale sarnese ha ufficialmente comunicato questa mattina di aver caccellato la manifestazione, sospendendo quindi il suo rinvio a data da destinarsi.